Ci siamo? Ci siamo, mi sentite? Ci dovrei essere, sono solo Giulia ha detto che non verrà Perché condivide pienamente le mie idee su animali fantastici La puntata di oggi è sul mondo di Harry Potter e animali fantastici Dal momento che mi ha lasciato questa delega totale Ne parlerò io anche ovviamente a suo nome E anzi amici di Portus che siete collegati Finalmente saprete tutto di come pensa Giulia Il luar del mondo di Harry Potter Ma battute a parte, eccola qua la mia ospite Che sei un po' cagata addosso Mi fai mandare ad Azkaban per niente Oggi la sto bullando da stamattina su questa live Sento Giulia che prende a testate lo schermo Esatto Allora Aiutatemi Allora, allora Intanto diamo un salutone a tutti quanti Quindi vabbè Ciao a tutti Burgan Renato Fabio Michele Matto Topino Pinguino Tonino Topino Era più bellino Topino Pinguino Simona Marco O Marco Simona Amici di Giula Sono proprio io Tutti gli amici di Giula Tutti i guanti Benvenuti in questa live Dove parleremo male Di tutto il mondo fatato Di Ave Potter Sei contenta Giulia? Era questo il programma, giusto? Sì No? No No? Qual era il programma? Parlarne Bene Parlarne Bene Discuterne No, non mi trovi d'accordo su questa cosa Questo è C'è scritto a pranzo con Mario E non a pranzo con Portus Quindi ne parliamo male Battute a parte Che mangi oggi? Piadina Che tristezza, mamma mia Piadina Con prosciutto cotto Patè di olive Edamer E? Edamer Il formaggio Edamer Lerdamer Edamer Si chiama così Che è la versione È tipo groviera Ma si chiama Lerdamer No, sulla confezione c'è scritto Edamer Se vuoi te la prendo Giulia mangia il clone cinese dell'Eerdamer Prendiamo bene atto Si chiama così Io invece ho il pranzo concordato con il mio seguito Non così tanto nutrito Ma che mi nutre Vavo, fallo vedere perché non ci fighiamo Se no C'è una legna di tartufo qui dentro Non ci si sta Una parte l'antincendio Secondo me per metano C'abbiamo anche il segnalatore di fughe di gas Quindi secondo me Fra un po' Finirà a mollo questa live Allora, allora Dalla chat Che ci scrivono Non preoccuparti Giulia Ci sono già dei sicari a Lucca No, dovete sapere che stavate Luca Sciglione Mi manda un wall of text Alle 8 del mattino Chiedendomi cose Io che alle 8 del mattino sono molto reattivo Gli rispondo E lui mi fa No, forse non hai capito E mi riscrive un wall of text ancora più lungo Per spiegarmi cose Al che io gli dico Guarda Luca che avevo capito E questa è la mia risposta in merito E lui fa Ah, ma mica mi puoi scrivere queste cose alle 8 del mattino Ma me le hai scritte te Luca Quindi vabbè Il formaggio coi buchi Ma io il formaggio coi buchi lo chiamo Lerdammer O Groviera E come dice giustamente Fabio Lerdammer è una marca Ah E quindi Edamer È un tipo di formaggio E il Lerdammer è un edamer È una marca Esatto Che fantasia mamma mia Questi produttori di formaggio Come se io Non lo so Facessi il caciocavallo E mi chiamassi Il caciocavallo Che produce caciocavallo Non hai neanche una cioccorana per dessert Giulia? No, ho la confezione della cioccorana Però se volete vederla Che tristezza Ma è uno che chiama la super fan numero uno in the world di Harry Potter Mi aspettavo caramello Eh allora io Ce l'ho Ma non le mangio Però ce l'ho Come non le mangi? No perché ho preso questa confezione fighissima agli studios di Londra Anni fa E l'ho tenuta perché è proprio Con le decorazioni Cioè è proprio quella ufficiale Fatta da Mina Lima Quindi l'ho L'ho tenuta Per bellezza E poi ci sono anche Le gelatine Tutti i gusti più uno Puoi Puoi comprarle in due modi O la confezione ufficiale Quella figa Uguale a quella del film Oppure La versione più piccola In cui le assaggi Io ci avevo tutte e due Quelle le ho anche assaggiate Quella che sta di sapone Fa di uno schifo Ma quindi fammi capire una cosa Siete a questo livello di feticismo Che non mangiate i dolci di Harry Potter Per non sprecarne la confezione? No Cioè dipende Dipende Quella è una roba che ti tieni per bellezza È una confezione così grande Di gelatine tutti i gusti più uno Non è che è tutta questa gioia mangiarle Non sono dolci effettivamente buoni Sanno veramente di erba Appena tagliata Di sapone Erba appena tagliata Che senso Giulia? Ho specificato L'erba del prato Ho capito L'erba del giardino Del giardino Del vicino E poi di sapone Di pepe Cioè non sono buone da mangiare Allora tieni la confezione per bellezza Mi aspettavo una citazione Che però ce l'ha citata Fabio Dopo quella al vomito Hanno perso ogni attrattiva per me Però Bravo Fabio Perché ho i miei Ho i miei seguiti Bravo Fabio no Perché ha sbagliato la citazione La citazione giusta l'ho fatta io Però glielo ho aggiustata così Allora ho perso il messaggio Intanto saluti da Nick Che ci saluta Ti saluta Ciao Nick Ciao Nick Un abbraccio al mio guru finanziario preferito Che ama questo epiteto Un abbraccio anche a Silvia Ma in live c'è Giulia Ed è subito me Ma ci confondono Ormai siamo una cosa sola Quindi non è un problema È confezionata da Dobby Dice Saitama Cosa? È che ne so La scatola delle tutti i gusti più uno Immagino Ma c'è quella al gusto caccola E soprattutto se veramente esiste Come l'hanno riprodotta Se prima non hanno assaggiato le originali? Allora quella al gusto caccola Le avranno aggiornate C'è gente che se le mangia Quindi Quella al gusto caccola Non c'è Per il modo per iniziare un pranzo Tra l'altro Top di gamma Da manuale C'è quella al gusto vomito Non c'è quella al gusto caccola Ma c'è quella al gusto vomito Mamma mia però Fortunatamente Fortunatamente ci sono delle istruzioni Con tutti i colori delle gelatine E tu puoi scegliere quale assaggiare Il disagio Il disagio Allora io mi sono appena accorto Lo dico a Silvia che regia Mi starà cazziando fortissimo Che nel mio essere Perennemente in ritardo Su tutta la programmazione Twitch Non ho inserito gli avvisi in live Silvietta Quindi Ora potrei fare un casino della Madonna Nell'inserirli Ci provo Sento già Le bestemmie di Silvia Ti argomenta qualunque cosa In questo momento Di Massimo Che ne so Posso citare La pietra filosofale Io spero che voi non Perché questa mattina Dovete sapere Che sotto Casavia C'è una strada Che è pedonale E questa mattina Ha deciso Un sassofonista Di venire a suonare Sulla pedonale Quindi spero che voi Non lo sentiate Come lo sento io E intanto Per dirla tutta Quindi ho anche un sottofondo Ho un tappeto musicale Dal vivo Live Live Che fortunella Che fortunella Comunque la dovevi dire La Frank Gramuglia Visto che è E questa mattina Mi sono svegliata E questa mattina Mi sono svegliata Con un sassofonista Sulla pedonale Così In questo modo Top Così Così ti vogliamo così Nel frattempo Di questa minchiata Sono riuscito a Mettere gli avvisi Credo Spero Adesso non la vedo più C'era un coso Blu Che si vedeva Nella live No Non si vedeva nulla Nella live Hai visto male Non mi mettere In cattiva luce Con Silvia Che già Manda i sicari E' da stamattina Che mi bullizzi Ho capito Quindi se vuoi che smetta Mettiti in una condizione Egevole Allora Invece Fabio ha detto Che non pranzerà Solo per seguirci Fabio Ci rifacciamo a play Vi ricordiamo Che abbiamo chiuso Il ticketing per play Quindi se non avete preso Il golden ticket Ci dispiace In compenso I 12 Anzi 13 Partecipanti Che c'è stata Un'imbucata L'ultimo minuto A cui non abbiamo potuto Dire di no Saranno con noi A cena Ci sarà anche Giulia Ci sarà anche Silvia Ci saranno anche Giullari Forse qualche altro ospite Last minute Vedremo Vedremo Il gusto vomito Non può essere L'unico gusto Che nell'argomento A quest'ora Fra l'altro Saitama Vero Ma Secondo me invece Sì Perché il gusto prevalente Quando vomiti E' palesemente Quello dei succhi gastrici Quindi Secondo me Hanno riprodotto E sintetizzato Tipo i gusti I succhi gastrici Di una rana Commestibili E via Che bello Pranzare con voi Che bello È bellissimo Non so perché Cioè Le tirate fuori te Tutti i gusti più uno No Io non c'entro niente Io ho letto un commento Della ciocorana E te sei finita di là Cioè Voglio la moviola In questa live La bar Chiamo il bar Chiamo il bar Lamentati Qui da noi abbiamo Tutti i poveriggi Il tipo Con i bonghi Che ci dà A manetta Eh ciao Leonard Ti piacciono i bonghi Per citare Anche dei bonghi Esatto Allora 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 Scusa Giulia Ho letto dietro Amici di Silvia E pensavo fossi Silvia Invece c'è scritto Effettivamente Amici di Silvia Ma dove è scritto Amici di Silvia L'ha scritto dietro di te Mi sa che la T'ha messo No per lei Silvia In live Non la vedi No la vedo La live Eh non stai vedendo Quella giusta Perché io leggo Amici di Silvia Certo Mario Ti mando uno screenshot Sì Nick stai peggiorando Dice Fabio E un po' anch'io A stare con Nick Come vedete Allora io inizierei a mangiare Non so te Va bene E tiriamo fuori Il main topic Intanto ci racconti Tanto te C'hai una triste piadina Io devo mangiare Un chilo e mezzo Di ravioli Di ravioli Esatto Ormai questa trasmissione È Mario vs Food Non è più Pranzo con Mario Ci racconti un po' Tutto il tuo peregrinaggio Perché io ho visto Credo fosse un reel Queste robe giovani Che fate voi giovani Due reel Sul tuo Sul tuo viaggio In quel di Animali fantasticoni Olandia Come vi siete organizzati Allora È stata È stata Una mega avventura Perché col fatto Che usciva Di mercoledì Io avevo Avendo poi La live Del gioco verso Il mercoledì sera Già ero tristissima Di non poterci andare La sera stessa Dell'uscita No? E invece Hanno dato La possibilità Ad alcuni cinema Che l'hanno richiesto Di farlo in anteprima A mezzanotte E quindi La notte Tra il martedì E mercoledì Per cui abbiamo Deciso di fare Questa mattata Io e Bischi Con Portus Stavamo organizzando Un raduno Al cinemar Che è Arcadia Di Merso Devi specificarlo Mischi è Il favoloso Membro della staff Di Amici di Giula Il favoloso regista Ok Non si vede mai E invece si vede E non è detto Che ci sia Non so se Mischi Non è vero No scusa Dovevi essere In camera singola In questo momento Se siete Se siete Grandi fan Della lore Di Amici di Giula Lo avete beccato Anche in qualche video Quindi Forse Forse Se sono stati attenti Se sono stati attenti E quindi Con tutto il gruppo Portus Quindi il gruppo Portus Organizzava Questo Questo mega raduno Per l'anteprima Di mezzanotte All'Arcadia Di Melso Che se non ci siete stati Andate Cioè Fatevi un regalo Andate a vedere Un film lì In Sala Energia Perché merita Tantissimo E Bischi Nel frattempo E chat Scrive È solo frutto Della sua immaginazione Non so se avete notato Che mentre È apparsa quella scritta Si vedevano muovere Dalle dita di Giulia Non è vero In realtà Bischi Non esiste Ragazzi Io Non volevo dirlo Così davanti a tutti Certo Che ha bisogno Di un TSO Ma insomma Vabbè Bischi Bischi Se ci sei Di qualcosa Che Giulia Non direbbe mai Se esisti davvero Vediamo se Ok Va bene Michi Bra Grazie per l'abbonamento Benvenuto Non so se si è sentito Il clacson A questo punto Io ragazzi Io non lo sento A prescindere Secondo me Non si è sentito Ma ho sentito Un Bestemmione Provenire dalla Liguria Si è sentito E vai E vai E vai Visto come sono Bravo Silvia Bravo sono Stai fermo Stai calma Insomma Quindi con tutto il team E insomma Siamo andati Siamo andati appunto A questo A questo cinema Perché ci volevamo andare Da tanto tempo Perché è una delle migliori sale Europee E quindi Tra le migliori italiane Per cui Andate Tra l'altro Poi ho scoperto Che Emanuele Che Giuliano E che non so Se è in chat In questo momento Però abita vicino E quindi è il suo Cinema di riferimento E se Veramente Se non abitate lontano Fatevi un regalo Andate a vedere Un bel film In Sala Energia Perché Merita È veramente Una bella esperienza La Sala Energia È l'unica sala Che merita O era Loro hanno Cinque sale Mi sembra Di aver capito Che hanno cinque sale Ognuna legata A un elemento E poi c'è La Sala Energia Quindi La Sala Energia È quella Di punta Diciamo In cui hanno Il Dolby Atmos E hanno Un suono Veramente pazzesco Lo schermo È il più grande Sicuramente D'Italia Mi sembra Anche d'Europa Quindi Merita Andate Cioè Vi consiglio Ve lo consiglio Noi volevamo andare Da tanto tempo Abbiamo colto Quest'occasione Per andare a vedere Animali Fantastici Insieme agli altri Di Portus È stata un'ammazzata Vera Perché siamo partiti Martedì mattina Presto da Roma Ovviamente Siamo arrivati a Milano Poi da Milano Siamo andati Vicino Bergamo Dove ci ospitarono Freccia rossa Freccia No Italo Italo Quindi Italo Cinque ore Quattro ore Tre Tre Perché era uno stop Quindi poi siamo andati Vicino Bergamo Dove ci ospitavano Da lì poi la sera Siamo andati al cinema Abbiamo cenato Con tutta la staff E chi ci segue Insomma I nostri follower di Portus La community di Portus Poi siamo andati al cinema Film che è cominciato A mezzanotte E uno È finito intorno Alle Alle due e mezza Quindi Poi ne abbiamo parlato Fino alle quattro E la mattina dopo Siamo tornati a Roma La mattina dopo La stessa mattina La stessa mattina Siamo tornati a Roma E la sera Sono andata in live Top Quindi ero distrutta E hai detto cose tipo Questo nuovo film di Star Trek Molto bello Esatto L'abbiamo visto Insana Energia Teletrasporto Si è rotto Eccoci qua Esattamente Esattamente Sei dama Ti dice Giulia Col costo attuale della benzina Spendo meno a farmi replicare Vicino a casa tua Una sala uguale a quella Che è scendere giù Eh Lo so Ma Saitama Scendere su Scendere su Non scendere giù Scendere su È vero Saitama è Scendere su Saitama è Sì È vicino Dungeon Dice A meno che Tu non ti riferisca Al polo sud magnetico Allora Luca Sciglione Nel frattempo Per colpa di Mario Ho trovato un blog Che parla di formaggi Ma come Sembra che Edamer E Lerdamer Siano due formaggi Diversi Boom Attenzione Essere la replica Fatta male A low budget Dell'Erdamer Ci confermi che non è cremoso? No Non è cremoso In effetti Non capito Ti saluta Yuri Un saluto a Yuri E basta Gli altri mecenati Si svegliano di notte Buongiorno 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 Chi sono gli altri mecenati? Yuri Ci faceva un ride Mecenati di ruolo Ci hanno fatto un ride Mecenati di ruolo Sì 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 Grandi Grandi Si svegliano di notte Per giocare di ruolo Mi sembra sensato Un po' come vampiri moderni Allora Avevo detto che saremo stati light Nei primi minuti Sì light Io ma addenta Te addenta Addenta Allora Faccio delle premesse Perché sennò sembra che io e Giulia partiamo da due background completamente diversi Di opinione Non è così Io ho letto Credo fosse l'epoca delle superiori o dell'università Non ricordo Tutti i romanzi di Harry Potter Mi piacciono molto 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 Li ho letti tutti Tutto il ciclo completo Due o tre volte Credo tre volte Ho apprezzato moltissimo i primi due film Non ho apprezzato moltissimo tutti gli altri Precisando che comunque di tutti i vari porting cinematografici Tolto l'integralismo estremo religioso dei fan club di Harry Potter Non è uno dei peggiori porting di sempre Potter porting po 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 Nel senso che oggettivamente Molti film hanno tagliato ad accettate Psicologie, introspezione, crescita di alcuni personaggi Il loro rapporto nel mondo C'è tanto cutting e tanto cutting fatto male C'è stata tanta fretta produttiva E secondo me però è giustificabile al fatto che quando lavori con dei kids Diventa molto complicato Tenere su delle produzioni cinematografiche accurate Multifilm, multiprodotto Mentre questi crescono Perché Non lo so ma il primo Harry Potter aveva sei anni L'ultimo Harry Potter cinque anni dopo Aveva già i nipoti praticamente Come età una grafica Quindi capisco che un po' Per la solita scialtroneria Hollywoodiana e non Hollywoodiana Cinematografica Un po' per esigenze di produzione Sia stato quel che è stato Ma tutto sommato Se poi portano alla lettura dei romanzi E se portano comunque a conoscere questo universo Che sicuramente sia come setting che come ambientazione È notevole E mancava da anni Un revamp di un Di un fantasy O comunque di una letteratura Di questo tipo Fatta bene E contemporanea Che non attingesse i soliti Repertori Triti e ritriti Tutto sommato Accettabile Però Non ho letto Questo per chiudere il mio background Poi parliamo del background di Giulia Per chi non la conoscesse Che è un attimino fogatina Vabbè Non ho letto Nulla di animali fantastici Perché poi mi sono fermato Per il mondo Harry Potter Harry Potter Anche e soprattutto Perché ho una certa Ideologia E quindi dopo le dichiarazioni Di la signora Rowling Ho perso molti interessi Per tutto Il suo operato Di lì in avanti Ma Tolta la parte politica Che la teniamo fuori Da questa chiacchierata Anche la parte ideologica Ho visto tutti e tre i film E fra l'altro Ho scoperto Che da tanto che poco Me ne fregava Le ho visti Per sbaglio Di notte In ordine sbagliato Perché ho guardato Prima il 2 Poi l'1 E poi Per fare un regalo A mio cognato Che voleva andare A vedere il terzo Gliel'abbiamo regalato Come regalo di compleanno Cena Aperitivo E film E quindi ho detto Mi rifaccio la maratona Perché vado a vedere Il terzo film E non so niente Così Me li sono riguardati Tutti in ordine Tutti In veramente Notte tempo Perché la sera Siamo andati a vedere il 3 La notte prima Mi sono guardato L'1 e il 2 Nell'ordine giusto Infatti diciamo Ma come cazzo fa Ne conoscersi Newt Eh certo Ora l'ho capito L'ho capito E devo dire Che mi hanno fatto Staggare Tutti e tre Ma Giulia Dicci il tuo background Eri Potteriano Il mio background In breve Perché poi L'ho raccontato Un po' più Nello specifico Lunedì Con Silvia Nella puntata di Loft Quindi se volete Poi andare Potete recuperare Anche quella puntata Perché Silvia Non è Potterhead Non ha vissuto Questo pezzo Di storia Contemporanea E quindi Lunedì ho cercato Di farla entrare Nel magico mondo Quindi se volete Recuperare la live La trovate ancora Insomma Sul nostro canale Twitch E poi la troverete Anche sul canale YouTube Di Dungeon Dice Ehm Per farla breve Io l'ho scoperto A 11 anni E subito dopo L'uscita Cioè qualche mese dopo L'uscita del primo film Quindi ti ha aiutato Il film in questo senso Io non conosco Cioè Non sono mai stata Da piccola Una grandissima lettrice Quindi Non avevo incontrato Il libro Sono diventata Una lettrice Dopo aver visto I primi due film Di Harry Potter Perché ho sentito La necessità Di leggere il libro Perché Mi sono sentita Riconosciuta In quel mondo E quindi Ho cominciato A leggere i libri Che mi hanno accompagnato Poi per tutta L'adolescenza Perché fatto sta Che avevo sempre Le stessa età Dei personaggi Crescendo Cioè quando è uscito Il sesto libro Io avevo 16 anni Quando è uscito Il settimo libro Ne avevo 17 Quindi ho sentito È stato È stato per me Tanto potente Questo accompagnamento Alla crescita Cioè Quando è uscito il quinto Avevi 62 anni E due nipoti Giusto? Esatto Esattamente Quindi Per me è stato Veramente Formativo Molto Delle cose In cui credo Dei valori Che ho Eccetera Eccetera Vengono E sono stati Anche Plasmati E cresciuti Attraverso La lettura Di Harry Potter Che poi È un mondo Che non ho mai Abbandonato Che è rimasto Sempre con me Perché è stato Veramente tanto 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 importante Dopo Dopo I sette libri Insomma Ma già durante L'uscita Cioè Proprio subito dopo L'uscita Dei sette libri Uscirono Questi libricini Piccolini Che sono Animali fantastici Dove trovarli Il quidditch Attraverso i secoli E poi le fiabe Di Bedelbardo Animali fantastici Nasce come un libro Sugli animali fantastici In cui Quindi non è La storia Di Newt Scamander Ma in realtà Poi È un libro Di testo Che è Riusava a scuola Per studiare Gli animali fantastici Era Gli animali fantastici E dove trovarli Di Newt Scamander Da là Hanno preso L'idea Poi Di Far partire La saga Di animali fantastici Che è uscita Anni dopo E che ovviamente Per chi era rimasto Legato Alla saga Di Harry Potter Come me Era un richiamo Fortissimo Alla magia Ma il primo Animali fantastici È piaciuto tantissimo Mi Mi piace Adoro Il personaggio Di Newt Perché Cioè Mi richiamo Cioè Empatizzo Tanto con lui È un personaggio Che trovo Super interessante E molto Molto bello E il primo Animali fantastici Mi era piaciuto Tantissimo A dir la verità Anche il secondo Io ricordo Di essere uscita Dal cinema Dopo aver visto Il secondo film Che ero Strafomentata Incazzata nera Anche Ma strafomentata Perché Cominciava A Cioè C'erano delle cose Che non mi andavano Che non mi andavano Bene Però Sono uscita dal cinema Molto fomentata Una cosa Che io Ho sempre detto E lo dico sempre Anche su Portus Io non ho mai Apprezzato Dall'inizio La scelta di Depp Come Grindelwald Perché Secondo me Non Cioè Grindelwald Non me lo immaginavo Così Primo E secondo Poi ho avuto La conferma Guardando il film Io non sono riuscita A vedere Grindelwald Nel Grindelwald Di Depp Ma soltanto Johnny Depp Cioè Non mi è arrivato Come personaggio Ed è uno dei motivi Per cui Non mi sono piaciuti I film I primi Il terzo Per un milione Di problemi Ma nei primi due La prigionia Che ormai vive Johnny Depp Dopo Pirati Di Jack Sparrow È incredibile La stessa identica cosa Cioè L'incapacità Di quell'attore Ormai Di liberarsi A quel personaggio Impressionante Penso La stessa identica cosa Cioè Lui ha fatto Tantissimi altri personaggi Prima E E anche durante Pirati dei Caraibi Però una volta Che si è incastrato Appunto In Jack Sparrow Io non sono più riuscita A vedere Oltre Jack Sparrow Molto d'accordo E secondo me Grindelwald Di Johnny Depp Ha subito Un po' Bravissimo Per carità È un bravissimo Attore Un grandissimo Attore Però Non riuscivo A vedere Grindelwald Vedevo Un personaggio Fatto Interpretato Da Johnny Depp E questa cosa Non mi è mai piaciuta Ora bestemmio Invece Secondo me Non è un grandissimo Attore Non è un grandissimo Attore E ti spiego Perché E allora Intanto mangio Tu spiego Ti spiego Perché Perché Vedi che non è facile Fare live Mangiandolo Dillo alla tua amica Amici di Silva Perché Non è un grande Attore Secondo me Perché È stato Un grande Attore Ma non è Un attore Che non riesce A liberarsi Un suo personaggio Non è più Un grande Attore A mio avviso Cioè Non si può Giudicare In questo momento Dici Esatto Non si può Giudicare Una qualità Professionale Sulla base Del passato Se io ho Un idraulico Che mi fa Un ottimo Lavoro In casa Costruisco Casa nuova E mi fa Un impianto Perfetto Dopo dieci anni Lo chiamo A sistemarmi Delle tubature E mi spacca Tutto Non lo chiamo Un grande idraulico Solo perché Una volta Ha fatto benissimo La mia casa Ho anche Cento case In questo Momento Storico A mio avviso Johnny Depp Non è Si sta dimostrando Un non Grande attore Perché è Palesemente Intrappolato In quella In quella In quella Maschera Di Che è stata Fortissima È stata Incredibile Forse È stata Un bellissimo Personaggio Jack Sparrow Sicuramente E forse Ti dico di più Forse Un personaggio Che è stato Polarizzante Per lui Nel senso che Molti attori No Lo disse Heath Ledger Poco prima Di morire Che il Joker Lo aveva assorbito Così tanto Così profondamente Che la sua vita Era completamente Cambiata E capisco Che quando si arriva A realizzare Un'opera Di interpretazione Così potente Il confine Fra Persona fisica E personaggio E ruolo Non sia banale Però ci sono anche Tantissimi attori Che ci riescono E che ci riescono Da anni Penso banalmente A Di Caprio Che si può amare Odiare Ma non è rimasto Bloccato nel personaggio Del lupo di Wall Street Per dire E avrebbe Tranquillamente potuto Penso a De Niro Penso al Pacino Un Jack di Titanic Anche Jack Esatto Penso a De Niro Penso al Pacino Penso a tantissimi attori Che sono oltre La loro caricatura E vedere Grindelwald Con le movenze Di Jack Sparrow In certi casi Cioè Ci mancava Che lanciasse Gli incantesimi No? Esattamente Mamma mia Che palle E Grindelwald Non è così Che palle Quando arriva Il veliero Grindelwald Non è così Grindelwald È affascinante Cioè Ti fa Ti fa pensare Di essere d'accordo Con lui In un certo senso E lui Non ci riusciva Perché era Troppo esagerato Secondo me Sì E fra l'altro Nel 3 Si capisce L'intenzione Costruttiva Di quel personaggio Quando Quando Silente Dice Spoiler Spoiler Questo è uno spoiler Spoiler Tappatevi le orecchie Spoiler Spoiler Levate volume Farò così Quando è finito Lo spoiler Quando Silente Dice Mi portava A pensare Come lui Mi portava Cioè Si capisce Che Silente Il più grande Mago Bla 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 Di tutti i tempi Era sedotto Dal modo di fare Di questo Questo personaggio Che è un elemento Fondante Di Fine spoiler Esatto E questa roba qua È potente E nei primi due film Non c'è C'è due palle È la macchietta Veramente È Jack Sparrow Versione bionda Che anziché sparare Con la pistola E fa la rambaggio Con la sciabola Spara con la bacchetta Magica A due coglioni Aspetta che scrivo In chat a Manuele Che è finito Che è finito Spoiler Finito Ok Grazie Silvia Pure ha scritto Ok E nel frattempo Recupero un attimo La chat Prima che continuiamo A blastare Il povero Johnny Che fra l'altro Segue tutte le nostre live Quindi Ciao Johnny Johnny lo diciamo Per farti migliorare Come attore Perché ci crediamo in te È stata una ferita Al cuore Troppo grossa Questa Scusate Allora Yuri Dice infatti giochiamo Anche a vampiri Molto bene Yuri Molto bene Attenzione Si arrampica Su uno specchio Fabio Non ho mai scritto Che l'Erdammer Sia la marca delle damme Il rumore di unghie Sullo specchio Buongiorno Fabio Buongiorno Benvenuto Io ho letto Anche animali fantastici Dice Yuri Il libro sul qui Dice le favole Di Bedelbardo Ma non ho letto The Cursed Child E credo che Eviterò di leggerlo Con tutto quello Che ho letto Al riguardo Io l'ho letto Stava strozzando Per rispondere Io l'ho letto Perché Per poter parlare Per poter parlare Secondo me È necessario Conoscere Quindi l'ho letto Non essere così Rivoluzionario In un canale Di gioco Per favore Per parlare Bisogna conoscere Ma che dici Se non so le cose Io sto zitta L'ho letto Per dare la via Per tutta questa verità Non è pronto Lo sai Te l'ho detto Mille volte Non puoi buttare C'è gente Potrebbe suicidarsi Potrebbe dire Ma come? Non posso parlare Di cose Senza conoscerle Ma l'ho fatto Per dieci anni Finito il mio mondo Esatto Arriva lei Non si parla di cose Esatto Grazie Giottoa Per l'abbonamento Grazie 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 E Alessandra Pink The Carson Child È nato come spettacolo teatrale E lì si deve fermare Conferma Yuri Luca Sciglione Vabbè Mario Ma siamo in libri A prezzi film E non ti piacciono i nuovi Fai parte La maggioranza Dei fan Animali fantastici Un modo per dare acqua Agli assetati Ti senti assetata Giulia? Non mi definirei Proprio assetata Cioè nel senso È ovvio che Qualsiasi cosa esce In cui c'è scritto Harry Potter Io faccio Oddio dio Devo sapere Così Però Non mi accontento Cioè nel senso Non mi basta Non mi basta Una roba del genere Infatti questo ultimo Animali fantastici A me non è bastato Cioè per me È un trailer Di due ore e mezza E ora arriveranno Altri tre film Tutti per te Giulia No no A me piace La saga di animali fantastici Io continuerò Ad essere una fan Di animali fantastici E vi dico Se non l'avete visto Guardatelo Perché ci sono Informazioni importanti Per quanto riguarda La saga E la lore Della storia Però Questo è un trailer Di due ore e mezza Per me Cioè ci sono Tantissime informazioni Che non vengono Approfondite Tantissima roba Che non viene approfondita E si viene a capire Che c'è bisogno Di un libro Dietro questo film E la differenza Tra la saga Di Harry Potter E la saga Cinematografica Di animali fantastici È proprio questa Tu di Harry Potter Puoi arrivare A giustificare Delle mancanze Che ci sono Perché sai Che ci sono I libri Che te lo spiegano Qua i libri Che te lo spiegano Non ci sono Quindi tu le cose Me le devi spiegare Non posso arrivarci io Perché sono una fan Da vent'anni Di quello Di quello E che quindi Ci devo arrivare io A spiegare le cose Perché altrimenti? Perché non ha senso Perché altrimenti? Ci arrabbiamo No Ma non quella cagata Che sta per uscire No Esatto Esatto Perché Cioè Per carità E infatti Questo film È molto divisivo Secondo me Sto leggendo Tantissime persone A cui sta piacendo Tantissimo E tantissime persone Che non riescono Ad apprezzarlo Ma vogliamo dire Una verità Giulia Vogliamo dire Che tante persone Che è l'errore Che faccio io Nelle cose Per cui vado in hype Lo apprezzano Perché hanno bisogno Della nuova dose Della cosa Che gli piace È esattamente La sensazione Che ho io Cioè E ve lo dico Proprio Perché lo Cioè io non riesco A dire Te lo dicevo prima È l'unica cosa Che ti ho detto Prima della live Su questo film Io non riesco A dire Che non mi è piaciuto Ma vorrei Ma E probabilmente L'errore È anche stato Ricevere informazioni Prima Cioè nel senso Io appunto Facendo parte Della redazione Di Portus Ho dei colleghi Della redazione Che l'hanno visto Ancora più in anteprima Di me Perché poi Io l'ho visto anche Il 10 aprile In anteprima Cioè io l'ho visto Due volte in anteprima Però c'è chi l'ha visto In redazione Ancora prima di me Per poter fare gli articoli Per poter partecipare Alle conferenze stampa Eccetera eccetera Che mi hanno alzato L'hype E io ho questo problema enorme Che se mi alzi Le aspettative Poi è molto facile Deludere Le aspettative E quindi Di solito Cerco di evitare Di farmi alzare Le aspettative Non ci sono riuscita Per cui Quando l'ho visto Non sono rimasta Felice Come avrei voluto E ho avuto bisogno Di vederlo due volte Per capire Per avere la conferma Di dire Ok però Io non mi posso Accontentare Di una roba del genere Eh però come fai Ormai è andata Eh ormai è andata Però non mi accontento Non mi sono Cioè non mi ha Non mi ha Accontentato Non mi ha resa felice Ok in quel senso lì Ok E Renato si dice La maggior parte La maggioranza dei fan Di qualunque saga È riferito al fatto Quello che diceva Luca Cioè vabbè Mario Ma se ami i libri Apprezzi i film Non ti piace i nuovi Fai parte della maggioranza Renato diceva La maggioranza dei fan Di qualunque saga Perché vuoi per effetto Nostalgia Vuoi per Modi diversi lavorare I film nuovi Sono sempre molto Discussi Però Su questa cosa Renato vorrei che Almeno la mia posizione È questa Non è che io A prescindere Parto E secondo me Come non è partita Prevenuta Giulia Cioè non c'è un pregiudizio Nel fatto Assolutamente Se no non ci andremo A guardarli È che ovvio La cosa che fa riflettere Fa pensare Quello che mi chiedo Sempre anch'io Spesso è Ma se avete già La sceneggiatura scritta Che è il romanzo Riuscite a fare Un adattamento Che sia decente Non condizionato Dalle esigenze Di natura Boh Perché non riesco Neanche a trovargli Una Una giustificazione Oggettiva Ad alcune Scelte operate All'interno Cioè Se Grindelwald Deve essere un personaggio Affascinante Seducente Diciamo Con quel carisma Da noblesse Del mago puro Ma in qualche modo Non pazzo schizofrenico O con i tic nervosi Alla Johnny Depp Perché scegli Johnny Depp Cioè la caratterizzazione Del personaggio Se ce l'hai E hai addirittura L'autore in vita Che te la può contestualizzare Sì Perché non la ricostruisci bene Voglio dire Ce n'hai di attori Che possono fare sta roba No? Cioè Io non lo so Cioè a volte mi sembra Che siano Mi immagino Questi sceneggiatori Un po' alla Boris Che si trovano lì Leggono La sceneggiatura Che è quello che poi Si aspettano I fan Quindi Gli dai quella roba È impossibile Che si incazzino E no Questa fa cagare Mettiamoci sta roba qua E poi Critiche Allora mi chiedo Lo fanno apposta Perché così Con le critiche Si parla del film E la gente lo va a vedere Non lo so Ipotizzo Una cosa complottistica Però A volte è così palese Cioè Prendiamo un adattamento Poi mi dici la tua su questo Prendiamo l'adattamento Del Signore degli Anelli No? Io Penso che sia In assoluto Il testo che ho letto Di più Tolti libri di economia Prendi L'opera cinematografica E Mancano delle cose Ok? Manca Tom Bombadil E Tom Bombadil È un personaggio Che non dovrebbe mancare A mio avviso Perché È il rapporto I Tolkien Con la divinità Con il Dio Come dici te È un punto Molto mistico Molto importante Che dà senso Anche a tante altre cose Ma sono Cut Non Drammatici Nella Interpretazione Della storia Della lore Ovvio che il romanzo È meglio in tutto Perché Per descriverti L'arrivo alla Contea Ci sono 47 pagine Che ti fanno capire Come soffiava La brezza Sull'erbetta Della collina Del cazzo di posto Dove vivevano gli Hobbit E adoro io Questa prolissità Descrittiva Che ti fa entrare In quell'universo Ma quando ho visto Quelle immagini Quando ho visto Quella fotografia In movimento Non mi sono sentito Così Tradito Nella fiducia Ma in altri Porting Cavolo È tremenda Questa cosa C'hai libri Cazzo Io sono leggenda Ma vogliamo parlare Di io sono leggenda Il più grande La più grande Violenza cinematografica Un'opera letteraria Andatevi a leggere Io sono leggenda Che è un capolavoro Di attualità Politica E sociologica Assolutamente Contemporaneo E poi c'è Will Smith Che spara gli zombie Non aver capito Una sega Del libro E quindi Voglio dire Quindi Scusa se ti ho Brutalmente interrotta Però io penso Che tu condivida Che noi non siamo partiti Col pregiudizio Del Tanto sarà una cagata Infatti Volevo fare una premessa Rispetto a questa cosa qua Perché È facile È facile Pensarlo Perché Siamo abituati così In questo momento storico Cioè È facile Parlare E parlare male Infatti Ho sbagliato a non fare prima La premessa Io sono un'ottimista nata E di solito Come dicevo Come dicevo anche prima Per me basta che c'è scritto Harry Potter E a me quella roba mi piace È difficile Che io parli male Di un prodotto Così importante per me Cioè Per arrivare a dire Non mi è piaciuto C'è qualcosa Che non va in questo film Non mi sto accontentando Vuol dire che è veramente Che c'è C'è veramente tanto Che non mi è piaciuto Perché io Cerco sempre In ogni cosa Di vedere il buono Di vedere Di vedere la cosa bella E Non Non parto prevenuta Non sono mai partita prevenuta Su Animali Fantastici Mai Così come su Anche su The Cursed Child Non sono mai partita prevenuta Ho detto Prima di dire la mia Lo leggo Poi L'ho letto E ho detto Sicuramente Se vado a vederlo a teatro È una figata Perché è una grandissima esperienza Ma a livello di storia È una fan fiction Che non c'entra niente Con la storia di Harry Potter Tant'è che non l'ha neanche scritto lei Infatti L'ha solamente approvato Non è Non è Ufficialmente Parte del canone Quindi Questa è una premessa Assoluta Che Che dovevo fare prima Ma anche perché il fan Vuole stare bene Cioè è fan di quella roba Esatto Non vuole essere deluso Vuole andare lì Godersi Anzi guardarlo Settecento volte Perché gli piace Esattamente Cioè tutte le cose Che sono accadute In questo Animali Fantastici 3 Io le ho capite E quello che non ho capito Posso arrivare a capirlo Perché mi confronto Con altri Con altri Che Che Lo conoscono Quanto E alcuni anche più di me Perché Lo studiano E lo rileggono Molto più di me Ad oggi E riesco a capirlo Ed è la stessa motivazione Per cui capisco Che i film di Harry Potter Piacciano tantissimo Anche a chi non ha letto i libri Perché Dal terzo in poi E qua faccio Un'altra piccola parentesi Il terzo film È il mio preferito Così come Il mio preferito È il terzo libro Cioè Sono entrambi i miei preferiti Il terzo libro è il mio preferito Ma il terzo film Non può piacerti Se hai adorato il terzo libro E invece sì Perché io Ti odio Ho staccato Da quel punto in poi Ho staccato Saga cinematografica È una roba Saga letteraria Ma Sirius Black Ma Sirius Black nel terzo film Sembra uno Psycho killer Del cazzo Fuori di testa Per tutto il film E poi dai Ti faccio i grullini Ho apprezzato tantissimo Le scelte di Cuaron Secondo me Poteva Poteva Cioè per me Il mio Quello che ho odiato Di più in assoluto È il quarto film E ad oggi Tuttora ad oggi Secondo me È il peggiore È anche quello Che regge male Regge peggio Di tutta la saga Andando avanti Molto d'accordo E a livello di dialoghi Ci sono anche proprio Dei pezzi tagliati Cioè Ruoli non spiegati Allucinanti E delle cose Veramente assurde Così come Cioè di solito Se lo giocano un po' Lo spreferito Come lo chiamo io Se lo giocano Il quarto e il sesto Di solito Nel sesto C'è Manca tantissima roba Ma un botto Proprio Cioè che proprio C'è Giustamente Ci fanno notare Dalla chat Di dare il titolo Primo, secondo, terzo e quarto Perché chi non è così fan Quarto qual è Il sesto qual è Il terzo è il prigioniero di Azkaban Il quarto è il calice di fuoco Il sesto è il principe mezzosanso Che poi la cosa Che mi fa più incazzare Il calice di fuoco È Arrivano altre due scuole di magia E non le contestualizziamo Manco per il cazzo No Arrivano e arrivano insieme a te Cioè ma tutti i dialoghi Del calice di fuoco Cioè ci sono dei dialoghi Imbarazzanti Cioè Cosa c'è che non va Ti si è annodata la bacchetta Ti si è annodata la bacchetta Ma di cosa stiamo parlando Hermione Greger Siamo a partire il sondaggio Su Bischi Perché a secondo me Non esiste davvero Vabbè comunque Quaron è scelta eccellente Non mi è piaciuto però Comunque il character design All'interno Perché non puoi sembrare Cioè nel romanzo È la lettura Da giornali Da quello che fanno Di cui fanno la cronaca Harry a tutta la sua combriccola Per cui sembra Che il prigioniero di Azkaban Sia un fuori di testa Lì lui si vede E nel momento del revealing Si comporta da fuori di testa Per 10 secondi 20 secondi Solo per far dire Ah no lo vedi Invece è buono Perché quello Esatto Quella è una roba È una roba cinematografica No è una cagata È una cagata Ok Non giustifichiamo l'esempio Perché ci sono film incredibili Che fanno quella roba Benissimo Devo votare il sondaggio Capito E ragazzi Sapete qual è l'unica scelta giusta Anche quella che vederà Dei premi in punti Non è vero Non è vero Non è vero Allora andiamo un attimo avanti Con la chat Perché avrai ancora modo Di triggerarti su queste cose Ok Bene Intanto mangio Tu leggi i commenti Antoine Duanel Abbiamo finito di leggere L'Ikabog 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 Ai nostri mostriciattoli Lì di 8 e 5 anni Iniziare con Harry Potter O è da bimbi più grandi C'è tagliato un po' di parole Antoine oggi Voleva dire Dopo l'Ikabog Va bene iniziare Harry Potter O è meglio aspettare Ma secondo me 8 anni Lo può già Forse 5 I primi 2 8 anni Insomma il quinto I primi 2 A 8 anni Ci possono stare Perché è molto meno kids Di quanto si pensa Harry Potter Ci sono delle cose Che secondo me Non mi stancherò mai di due Lasciano degli incubi A quell'età Quindi se li devi leggere insieme Aspetterei che Il quinquenne Abbia almeno 7-8 anni Dancefloor scrive una cosa Aspetta non andare in fondo C'è tutto il tema No no è importante però Questo è di Twitch E ora ci arriviamo Come non Eh ma questa roba È quella Twitch che fa cazzate Non ci possiamo fare niente Io non sono Potterhead Però ho letto un paio di volte Tutti i libri L'ultima volta un annetto fa E solo dopo aver guardato i film Ah no E solo dopo ho guardato i film In passato avevo visto solo il primo Non sono invece per nulla Esperto di animali fantastici Recupererò Luca Sciglione Il problema qui è che I film hanno una base sul libro Animali fantastici Non ha una base sotto Infatti sono bellissimi visivamente Ma carenti Trama e scingiatura Ok Ok Non hanno una base sotto Mai La scrittrice Di quell'universo T-rex No Bischi non esiste Ma come? Ho pure votato Bischi non esiste È nella tua testa Ma Bischi ha donato 450 punti In canale Per votare che non esiste Esatto Ma no Ma io stavo votando per il sì Intanto ringrazio Joptoa Saimurai Gaia per la subscription Grazie Molti cuori per voi in chat Cuori coreali Che non so fare Comunque hai la scrittrice Di quell'universo Ancora in vita Che puoi tranquillamente Mettere nell'equip Di sceneggiatura Basta pagalla E comunque hai una lore Che puoi non tradire Cioè nel senso Ci sono tante cose Che sono veramente Buttate lì Senza un minimo di studio Del personaggio Ma il problema È che è palese Che la Rowling Ha scritto una sceneggiatura Che poi viene tagliata Male Dallo sceneggiatore È palese Come sempre Cade Spesso accade È palesissimo Ma anche lì Il personaggio di Silente Entriamo Entriamo un po' Nei dettagli Degli Animali Fantastici Cioè Te ti appaga In Animali Fantastici Come è stato ragionato Il personaggio di Silente Lascia stare l'attore L'interpretazione attoriale La credibilità Di quel personaggio All'interno di quella trilogia Ti è piaciuta? È per me È quello che dicevo prima Cioè io ho visto Un assaggio Un trailer Cioè un assaggio Dal punto di vista Di E invece lo sai cosa Mi ha fatto incazzare a me Quanti anni ci passano Dall'ultimo Silente Al primo Silente Cioè Il Silente di Harry Al Silente delle Mani Quanti anni ha Di differenza? Allora Questa roba Delle date Perché nel terzo film Hanno fatto un casino Con le date Va bene Ma così Abbraccio 50 anni di differenza Però in teoria dovrebbe essere Cioè Il primo Harry Potter È ambientato nel 91 E questo è negli anni 30 Ok Quindi Sessantina d'anni Di differenza Circa Cioè Il livello di saggezza Sapienza E Conoscenza Di ogni possibile risposta Non è un attributo magico Nella Lord Di Harry Potter Il mondo Dei maghi Si basa Sulle stesse regole Dei non maghi Se non che hanno la magia Non è che acquisiscono Immediatamente Esperienza di vivere Di comportamento Di adattamento sociale Politico Quando sono adolescenti Sono dei minchioni Quando sono un po' più grandi Sono un po' meno minchioni Poi alcuni di loro Diventano cattivi Poi alcuni di loro Si ravvedono E tornano buoni Hanno un'evoluzione Tipicamente umana Sono umani Perché Silente Fa eccezione In questa lore Perché Silente È tanto saggio Quanto 60 anni dopo O non è cresciuto Un cazzo In 60 anni O l'hanno troppo caricato Hanno voluto fare La macchietta Giovane Che è la stessa cosa Che ho odiato Visceralmente Di X-Men Xavier giovane Xavier vecchio Cioè La stessa identica consapevolezza Ma ti pare che te A 30 anni Sei come a 60 anni In termini di consapevolezza Guarda Da questo punto di vista Secondo me Invece Si sente Una differenza Di saggezza Tra Harry Tra Silente Che conosce Harry E il Silente Che vediamo In Animali Fantastici È minima E comunque Anche Leggendo i libri Di Harry Potter Si percepisce Che comunque Silente È sempre stato Da quando Si è diviso Da Grindelwald Perché lo raccontano Nei libri Cioè da quando Lui si è diviso Da Grindelwald Cioè è comunque Sempre stato Un potente Mago Riconosciuto Da tutti Eccetera Eccetera E Ha una Una certa Debolezza Diciamo Tra virgolette Rispetto Rispetto al Silente Che conosce Harry Quello di Animali Fantastici È molto più Più fragile Secondo me Questo Questo mi è arrivato Ma credo sia dovuto A Molto All'interpretazione Di Jude Law Che comunque È stato bravissimo Secondo me Jude Law Bravissimo Ma purtroppo Invece Ti dico A me Non è arrivata E anche perché Il Silente Di Harry Potter Soprattutto Quando va A Sfilarsi Pensieri Nel pensatoio Fa percepire A Harry Il problema Di Proprio il tema Del Cadiamo Per rialzarci Sbagliamo Per imparare E fa percepire Anche tutti i suoi rimorsi Suoi errori Suoi sbagli Li comprende Alla luce Del suo passato Lì Sembra che Operi Con la stessa Identica consapevolezza Di quel Silente Là Io che lo mi stia a finali Sento Queste Però Ha bisogno Di Newt Che gli risponde Che è il pretesto Che hanno In tutti i film Ha bisogno Di qualcuno Che gli faccia capire Che sta sbagliando qualcosa E allora Ma quella è l'età Dell'autoconsapevolezza Lì doveva essere Sborone Basta Fanculo tutti Comando io Che è Perfettamente In linea Col Silente Che poi si pente Del suo atteggiamento Di non aver capito Sufficientemente Gli altri E di aver dato Troppa importanza Capacità bravura E non a empatia Sentimenti Di altri aspetti Della vita umana È lì che Per me Crolla tutto il film Cioè vedere Questi personaggi Che sono La fotocopia 60 anni prima Non 10 anni prima 60 anni prima Di se stessi Io questa cosa L'ho odiata In modo Pazzesco Pazzesco Per quello Per quello Davvero Newt È il personaggio Di rottura Perché È talmente diverso Da tutto quello Che ci hanno fatto vedere Finora nella Lord Di Harry Potter Che è unico E quindi è super credibile È talmente uomo nuovo Che è super credibile Già il primo ministro Copia di un altro Primo ministro Senza entrare troppo In uno spot Cioè Tutti copia Io vedo lo sceneggiatore Che fa Allora questo Allora questo Lo devi fare Come nel quarto film Dai Allora sulla squadra Di lavoro Del film Potrei stare qua A fare dissing Per le prossime Sei ore Dai sputaci un po' Di rime avvelenate Perché Perché Cioè Ripeto Quello che dicevo Già prima Io riesco a percepire Delle cose Dal film Che Alcuni miei compagni Della redazione Poi hanno Stra apprezzato Di questo film Per quello dicevo È molto divisivo Perché appunto Conoscendo talmente Tanto bene I personaggi Riconosci Quei richiami Ai personaggi E quindi La solitudine Dei silente Che è Stra importante In questo film Eccetera eccetera A me Non è bastato Perché Nonostante io Conosca perfettamente Bene i personaggi Però Non mi è bastata Questa cosa qua E Se però tu guardi Il film È montato male Mamma mia Cioè la sceneggiatura Ma poi Si capisce appunto Che Pezzetti di cose Che fanno parte Di una roba Molto più grande Di te Che non sei capace A riportare Ma che è stato Lo stesso sceneggiatore Di Harry Potter Il regista È lo stesso Degli ultimi Tre Harry Potter C'eva meno voglia Questo è il suo Settimo film Del De coccio Amico Ecco Allora Di che stiamo a parlare L'unico che si salva Dei film Di Yeats Di Harry Potter È I doni della morte Parte 1 Che ci aveva dato Un sacco Di aspettative Un sacco Un sacco A livello Riportava molte cose Che c'erano nel libro E non ce le aspettavamo Dopo gli ultimi film Che avevamo visto E per cui ci aveva alzato Un botto Le aspettative Per I doni della morte Parte 2 Che invece è andato A bacca Totalmente Cioè Così Proprio Blah Cioè È assolutamente così Cioè Finisce con uno Scorriandolamento Avanti Tom Finiamola come L'abbiamo cominciata Insieme Ma cosa Che sta succedendo Manca tutto il pathos Della scena finale C'è una roba Che io Che io avrei voluto Vedere Sul grande schermo E qua Si notano Tutte le mancanze Della stessa squadra Di montaggio Di 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 quei film David Yeats Alla regia Mark Day Al montaggio E Steve Klops Alla sceneggiatura Per me Ricercati numero 1,2,3 Esatto Indesiderabile Numero 1,2,3 Assolutamente Però sai Poi è sempre La solita considerazione Se poi al botteghino Sbanchi La squadra Il problema Quindi la colpa Siete voi fan Il problema È che Sta sbancando Fino a un certo punto Cioè nel senso In Italia Sta andando molto bene Il mercato Degli Stati Uniti Che è molto più Legato Anche alle questioni Extra Film Certo Quindi Quelle Le questioni politiche Appunto Di cui Eviterai Di chiacchierare E la questione Johnny Depp Il film Negli Stati Uniti Non sta andando Così bene Tra l'altro Per gli Stati Uniti Questo è un film Complicato Allora io Cari amici Degli Stati Uniti Che ci seguono Fra l'altro Dal canale Cari amici Degli Stati Uniti E qua Scusate Faccio proprio Un super trigger Che non farò mai Da altre parti Ma Dio santo Se questa trama È complicata Per voi Forse dovreste Vedere Il live action Della pimpa Perché questa trama Non è complicata Clip per favore Cioè nel senso Stavo andando A cercare intanto Il box office Dei tre film Mentre Per vedere un po' Anche due numeri Che ci piace sempre Vedere i due numeri Dovrebbe essere In Italia È il quarto Al momento Al botteghino Dovrebbe essere In America È il Cioè scusa In America Non me lo ricordo Però è tipo decimo Una roba del genere Mentre in Europa È stato Cioè al momento Dell'uscita È stato Tra i quattro Il terzo Miglior incasso Dall'inizio Della pandemia Dopo Spider-Man No Way Home E Scusa In Italia È stato il terzo Miglior incasso Dall'inizio Della pandemia Dopo Spider-Man No Way Home E Me Contro Te Ok Il primo film Fece Credo 219 milioni Primo film 219 milioni All'incasso Questo non arriva Ora ancora Ai 43 milioni Però È ancora un pochino Presto Perché poi Manca l'uscita Su DVD E streaming E in Europa È andato comunque Meglio di Dune Per dire Sì Però confermerebbe Il calo Poi C'è anche da dire Che come ogni trilogia Se si compara Il primo Con l'ultimo C'è comunque Una perdita Nel tempo Di Interesse Questo Questo è sempre Un po' vero E Scusate C'erano dei commenti Che però Ti volevo leggere Ok Che io Non so Intanto Nick saluta Alberto E Silvia In live Oggi Per farci perdonare In modo elegante E dice Se non sai le cose Tu stai zitta E quando parli Scusami Bullata così Malissimo Mentre Renato Al tuo commento Sulla saggezza Dice la Giulia Che non ci meritiamo Ma quella di cui Abbiamo bisogno Che io fra l'altro Piccolo Visto che parliamo di cinema Io sta frase Non l'ho mai capita Davvero Cioè Perché In italiano In inglese È più diretta È più comprensibile Cioè È We don't deserve Quindi Meritiamo nel senso Che siamo Stronzi noi E troppo meglio lui Quindi non ce lo meritiamo Però meritare In italiano È neutro Da questo punto di vista L'accezione Cioè Non mi merito Questa sfiga Oppure Non mi merito Mia moglie Sono Due Nel mio caso In cui Mi merito Cioè Sono contenta Mia moglie Ha questa accezione Positiva o negativa Allo stesso Quindi quando dicono La Giulia Che non ci meritiamo Ma quella Che abbiamo bisogno Potrebbe essere E mi riferisco Al Cavaliere Oscuro Nello specifico Che Fa schifo Ma meglio Che niente In questo momento Quindi occhio All'uso italiano Di questa frase Perché Io tutte le volte Che la leggo Mi interrogo Cioè Sto lì Quando vedo La gente Che va Il tizio Che ci meritiamo Quello Che senso Però Scusa Vabbè Deliri miei Personali Yuri e Basta Nanni Moretti Likes Giulia Siamo un po' Indietro Quindi Riconciliatelo Un po' Come vuoi Allora Poi andiamo avanti Io attendo Con Hype Hogwarts Legacy Ma di questo Ne parliamo dopo Perché ovviamente L'hype è altissimo Lo dico Dice Esci gioco Perché è una sottile Forma di gatekeeping Se non consenti Una via di accesso E serve un'informazione Ulteriori Che non mi dai Mi tieni fuori Non voluto Ma questa è la Risultante Riferita al fatto Che non ci siano Informazioni Però secondo me Silvia Su questo Non siamo d'accordo Nel senso Che il gatekeeping È Sempre intenzionale Al massimo È inconsapevole Nel senso Che il motivo Per cui fare Gatekeeping È sempre La volontà Di mettere Fuori qualcuno Poi il livello Di consapevolezza Di quanto lo fai Perché quel qualcuno Secondo te Davvero non è degno O quanto lo fai Perché il suo Non essere degno Secondo te Ti rende una persona Migliore È un confine Molto olimpico Però secondo me Il gatekeeping È sempre intenzionale E chi non lo fa Intenzionalmente Dice di farlo Accidentalmente Mente Tutto mente Yuri e basta Depp era una scelta Commerciale Non di sceneggiatura Credo Non lo so Non lo so Secondo me Depp non se la passa Bene In termini di Fanbase In questo momento In questo momento No però Quando è stato scelto Sì Quando era stato scelto Per Depp Ma è 2016 Il primo Non ricordo Lo dico io Secondo me 2016 Secondo me Sì 2016 E era già Non era già Non era già Così incredibilmente Quotato Ma avessero detto Will Smith Ma avrei detto Sì esatto Cioè Era Era già Forse leggermente Esceso Però È stata una mossa Estremamente Commerciale Sì 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 Ma c'erano tante Commerciali Che potevi fare Potevi prendere Di Caprio Davvero Magari Di Caprio Ti dicevi no Leggeva la sceneggiatura E dice Che cagata Fanculo Non lo so Boh Comunque Se è stata Una scelta Commerciale Non Non delle migliori A mio avviso Perché Come la pensiamo No 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 Sì Poi con tutto Quello che è successo Dopo È stata Una scelta Che si sono dati Proprio Darsi la zappa Sui piedi Chiedi alla Warrior Bros Come si fa Così Per tutto quello Che è successo Dopo E che ora Tuttora Stanno risolvendo Cioè Proprio della vita Qui invece Non sono Non sono d'accordo Cioè Quaron Secondo me È stata La scelta Perfetta Perché È perfetto Rispetto Ai libri A parte Il suo Entering in the movie Che è Secondo me Completamente Sbagliato È solo Un effetto Wow Che gli ha detto Di fare lo sceneggiatore Io sono sicuro Quaron Tanto so che ci segui Scrivici in chat Hai ragione Mario Io volevo fare Un'entrata Credibile Me l'hanno cambiata Me l'hanno doppiata Quaron ci ha messo Tutta la cura Cioè Ha cambiato Hogwarts Nel modo in cui Oggi Noi Cioè Se tu pensi a Hogwarts La pensi Come Visivamente Come l'ha creata Quaron Sì E Ha fatto tutte Queste inquadrature Che ti fanno Camminare Nei condito Però Non te l'ha immaginato Io che ho letto Il primo libro Prima di vedere i film Io me la immaginavo così Quindi secondo me Quaron ha Accentrato Sì 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 Esatto Il libro Come oggetto Come immaginario Nel senso È stato fedele Assolutamente Esatto L'ha cambiata Per renderla più fedele Ha distrutto Sirius Black Probabilmente Non è colpa sua Come dici tu No non è vero Non è vero Come si chiama L'attore di Sirius Gary Oldman Gary Oldman Grandissima scelta Secondo me È stato perfetto E secondo me In quei tagli I personaggi Che ha realizzato Quaron Erano impeccabili Io poi tutti i nomi Non li so Quindi se faccio gaff Correggimi Ma Io Mi sono Io ho letto il primo libro Ho visto il primo film Ho detto Wow è uguale Spettacolo Mi piace tantissimo E fino al 3 Tutto bene Dal 3 L'entering Quando gira la porta Per capirci Non lo so Però Poi da lì Ha sbaccato Completamente Col quarto Il quinto Insomma Il sesto Mamma mia E il quarto È quello tutto Incentrato sulle love story Dice Yuri Eh no In realtà È il sesto Quello che Che è più Incentrato sulle love story Nel quarto C'è di fondamentale Per le love story C'è il ballo del ceppo Però Beh sì Però un po' tutto Il Volemose bene Con Fleur Sì Però È molto più Il sesto Se lo guardi da fuori È più commediola Diciamo Il quarto Il quarto Dicevano Il quarto E' quello tutto Incentrato sulle love story Eh no Secondo me Secondo il sesto Ok Sì il sesto è un po' Però anche il quarto Dai un po' Cioè forse Forse il quarto È troppo il peso Che danno Alle Quello che dico sempre È che appunto Prendendoli soltanto Dal punto di vista Cinematografico Quindi staccatevi Un attimo Il pensiero dal libro Prendendoli Dal punto di vista Cinematografico Il sesto Ha Ha Delle Lacune Enormi Ma prendendolo Dal punto di vista Cinematografico E basta È un film Piacevole Da guardare Il quarto Secondo me Non regge Neanche visivamente C'è l'unica scena Che veramente Tiene E di quello Grazie a Ralph Fiennes Che è l'attore Che ha interpretato Voldemort È Il ritorno Di Voldemort Sì Però se tu Non ti fermi Che è esattamente Come te lo immagini Che è esattamente Come te lo immagini Ma se tu Non ti fermi Al personaggio Cioè Se tu togli Ralph Fiennes Da quella scena È palesemente Finta Non riesci A toccare Con mano Il cimitero Di Little Angleton Non ci riesci Cioè È palesemente Finto Ma perché Gli mancavano i soldi È una produzione indie Harry Potter Cioè Non potevano investire Denaro Con i pochi soldi Che raccoglie la saga E fare un bel cimitero E fare I begli effetti speciali Giulia Certo Come Cioè Infatti Stava per mangiare Come Ho avuto un attimo Di terrore Se voi Andate agli studios Se voi Andate agli studios Quello che Vede Cioè A parte Gli abiti Del quarto film A parte Gli abiti Che comunque Sono estremamente Riconoscibili Il ballo del ceppo Appunto Eccetera Eccetera Le scene Che tu vedi di più Camminando Negli studios Ricordano Esattamente Il Soprattutto Il terzo film Ce sarà motivo Non lo so Era una domanda retorica Alessandra Pink Perché il quarto Ha dovuto fare Dei tagli assurdi Io ti correggerei La domanda Alessandra Pink Perché il quarto Ha dovuto fare Dei tagli assurdi Punto interrogativo Ok Anche nel quinto Hanno dovuto fare Dei tagli assurdi Perché il quinto È ancora più lungo Del quarto Pazzone così Però il quinto Se tu lo guardi Dal punto di vista Cinematografico Regge Ci sono un botto Di robe Che non ti spiegano Non saprai mai Che cos'è la profezia Nel vero senso Della parola Ma dal punto Dal punto di vista Cinematografico Regge Nel quarto film Cosa sto guardando Esattamente Cioè Non lo so Anche la colonna sonora Del quarto film È la peggiore Perché Poi è stato Il momento di cambio Perché John Williams Ha fatto la colonna sonora Dei primi tre E poi È cambiato Nel quarto film Se ne è occupato Patrick Doyle La colonna sonora Del quarto film È la peggiore È tutto sconnesso Yuri e basta Ermione Cos'è una bacchetta In tasca O sei solo felice Di vedermi Eh capito Esatto Proprio tipico Poi del personaggio Di Ermione Tipico poi Del personaggio Di Ermione Esatto capito Queste uscite Nicola Ho letto Il segno degli anelli Tre volte Attento con anzi Il tempo di leggerlo Una quarta volta Mamma mi faceva Addormentare Con l'Hobbit Da piccolissimo Quando ancora Il binomio Cinematol Che non esisteva Nemmeno nell'anticamera Del cervello Di casa Miramax Nonostante gli enormi tagli Adoro il film Ma l'assenza di Bombaldi È sempre una lama Di Morgul Sulla schiena Io sono molto d'accordo Non so se ho ringraziato Gaia Secondo me l'ho ringraziata Ma la ringrazio nel dubbio Ciao Gaia Grazie Due volte A te Due volte Invece Sai Muraia Giotto Solo una volta Perché è così Dancefloor Però ho uno scam enorme Sui libri Il mio preferito È L'Ordine della Fenice Lo presentai una volta anni fa E mai Lo prestai Una volta anni fa E non è mai più tornato indietro Allora non è uno scam È un furto È rapina Furto Io avrei Cioè Avrei potuto uccidere Ma te sei per le copertine nuove Giulia Per le copertine vecchie Mi fanno impazzire Ma la ricomprerei tutta Solo per quelle nuove Quale? Quelle Tutte un po' poligonali Non so chi le ha fatte No Le odio a morte Adoro io invece Mi ricordano tantissimo Journey Che è uno Dei miei videogiochi indie Preferito Quindi Allora Io adesso C'è stato un flame E un dissing Ah ok Che è quella di Mina Lima C'è stato un dissing Fra Manuele Giuliano E Yuri e Basta Perché Manuele Giuliano Dava una grossa high five A Will Smith Come grande attore Che riesce a uscire Da se stesso E fare altri personaggi E Yuri e Basta Nel senso che sostituisce Qualsiasi personaggio Con se stesso E da grande fan In tenera età Con Il principe di Bel Air De Will Smith Devo dire Che non è che siamo andati Troppo più lontani Con però Con però E questo potrebbe dare ragione A Giulio Su quello che Diceva che spesso Gli attori Sono devastati Anche dagli sceneggiatori Un'ottima Secondo me Due ottime Interpretazioni Sia nella ricerca Della felicità Che in 7, 9, 12 anime Qual era l'altro film Non mi ricordo Quelli fatti con Muccino E La ricerca Della felicità Secondo me Quel personaggio Non è il classico Louis Smith Infatti È incredibile L'avrebbe potuto fare D'Ansel Washington Probabilmente Quel personaggio Infinitamente meglio Però Se parliamo Di interpretazioni Will Smith Tutto il resto È sempre Pro Il classico Super macho Afroamericano Che partisce Cazzotti A destra E manca E fa le battute Da super bullo Maschio Afroamericano E Insomma Vabbè Non entriamo Nella notte Degli Oscar Lasciamo stare Michele dice Io sono molto più Inconsapevole Rispetto a dieci anni fa Michele Ma non confondere L'umiltà Nel crescere Cioè Nel capire Che sai di non sapere Dei quasi 40 Con L'autoconsapevolezza Cioè sono due cose diverse Un conto è Ho acquisito Abbastanza esperienza A non avere più certezze E un conto è Sgravo E so tutto Quello che devo fare Sempre e comunque Nello stesso modo Nei segreti di Silente Questo come riflessione Filosofica Non c'entrano le fine Fede 93 Fede Ciao Fede Nei segreti di Silente Si vedono di più Le debolezze Di Albus Non a sufficienza Ma secondo me Si nota nel rapporto Con Grindelwald e Aberforth Ormai che si notino Quello che dicevamo prima Mi sa che è arrivato In quel momento lì Però secondo me Sono un po' cammei Cioè nel senso Sono un po' Delle note Cioè facciamo vedere Che Silente ci tira Per Grindelwald Facciamo vedere Che è davvero dispiaciuto Per come si è comportato Con i fratelli Però poi Questa crescita Che avrebbe avuto lì E quindi Se la doveva portare Fino a 60 anni Nei romanzi Si sente In divenire di nuovo Quindi È una continua Rielaborazione E si capisce Che non hanno fatto Un character design Di Silente In questi tre film Ragazzi Poi capisco Tutto l'essere fanboy Però il character design Non c'è Cioè la scrittura Del Chi è Silente A questa età E come si comporta Come ragiona In funzione di quello Che sappiamo Degli altri Silente Di cui abbiamo a disposizione Secondo me non c'è Cioè se si fa Cercare un paper Il problema invece È che secondo me C'è E non è stata presa In considerazione No è fatta pure bene Ma non è stata presa In considerazione E questo secondo me Quindi stai dicendo Che c'è Ah quindi Non che l'ha fatta La sceneggiatore Cioè ci sarebbe Un modo di fare Il Silente corretto Jude Law L'avrebbe potuto fare Assolutamente Nell'architettare La struttura del film Nella squadra del film Questo manca E manca In tutta la sceneggiatura Secondo me Si Sono appunto Spunti Sono piccoli Appunto Ripeto Quello che ho detto prima Un trailer Di due ore e mezza Sono d'accordo Fra l'altro Non c'è un'enorme Discrepanza di età Fra McGranit e Silente Nella trilogia Scusa La cosa OCD Che mi aveva tiltato Durante il film McGranit In realtà È proprio Fan service L'inserimento Della McGranit Immaginavo Ma non è comunque Sbagliato Nel farlo Non è troppo giovane Nella trilogia E Ci discutiamo Tutto oggi Ancora tanto Perché la data Di nascita Della McGranit Non è mai stata Rivelata Ufficialmente E tra l'altro La Rowling Ha sempre detto Io faccio casino Con le date Regà Ho capito E Quindi Quindi non ha mai dato Una data ufficiale Di nascita Della Della McGranit Della storia Della McGranit Sappiamo che Prima di fare Ufficialmente L'insegnante Lei ha fatto Una Una specie Di assistente Diciamo A Hogwarts Quindi a livello Come storia Ci potrebbe Anche stare Però è stata Inserita Semplicemente Per mettere Un nome Conosciuto All'interno Ok All'interno Ma io mi limitavo Solo a Chi ha fatto il casting Hanno preso Una di vent'anni Ah proprio Sendevi Come ha detto Ma che dice Quindi se Su queste cose Hanno sempre Cannato alla grande Cioè nel senso Se tu pensi Che Lily e James Quando sono morti Avevano 30 anni Quanti anni Ti sembra che abbiano Sì No Sono d'accordo Probabilmente Probabilmente Quando appaiono Nei film Avrei Avrei dato Sui 40 45 Sicuramente È stato fatto Però non è la differenza Fra McGranny E Tessilente Ci corre 20 anni Fra McGranny E Tessilente Della trilogia Sì 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 Ma queste cose Secondo me Appunto Le hanno sempre Cioè Non gli è proprio Mai interessato Sti cazzi Però E invece Nei film di Harry Potter Giocano a burraco Insieme al circolo arci E Dancefloor 89 Ora mi prendo l'odio Di tutti i fan di Harry Potter E dei burrachisti Ma è impossibile riportare Le sfumature di un libro Sulla trasposizione cinematografica Non sono d'accordo Dancefloor Non puoi riportare Ogni sfumatura Ma puoi riportare Molto Molto Del senso Di quella roba Su una trasposizione cinematografica Assolutamente sì Cioè io Ho letto tutte le cronache Di Narnia E ho visto Il leone La strega E l'armadio Quando uscì È un film Tra l'altro A cui sono anche Molto legata Non ho trovato Così tante Grandi differenze Tra libro e film Solo nel caso Del leone La strega E l'armadio Perché poi è andato Allo scatafascio Pure quello Però Non mi ha Non mi ha Scontentato Come lettrice Quello Altro esempio Che vi faccio È Noi siamo infinito The perks of being Wallflower Che è uscito Qualche anno fa 2006 Qualche anno fa 2006 forse 2000 O 2016 Qualcosa col 6 Non fare la fine Della Rolling Esatto Lasciamo stare Comunque Io ho lessi Sia il libro Perché Ci recitava Emma Watson Io grandissima fan Di Emma Watson E recitava Emma Watson In questo film Quindi Quando ho saputo Che usciva il film Comprai il libro Prima di andare A vedere il film Lessi il libro E poi andai a vedere il film Il film Mi è piaciuto Più del libro Cioè In quel caso Là Secondo me I cambiamenti Che erano stati fatti All'interno del film Davano ancora più Rilevanza Ad alcune cose Che accadevano Nel libro Quindi Non è sempre Non è sempre vero Che la trasposizione Cinematografica Peggiora L'opera letteraria Sono d'accordissimo Fedes Secondo me Silent era sborone Subito dopo la scuola Quando muore Arianna È costretta a crescere E comincia a pentirsi No Perché Perché Per 5-6 Quando è che viene Ridetto nei romanzi Che era morta Arianna Sesto Settimo libro Settimo libro Fino ad allora Il rapporto Col fratello E con la sorella Sono Poco Esplicitati Poco Snocciolati Mentre In questo Ci fa capire Tutto il rimorso Che ha In una pessima gestione Familiare Del suo essere Fratello Di una sorella E di un fratello E di aver tradito Le loro rispettive fiducia E dei rispettivi comportamenti Al punto che È quasi sanatorio Questo animali fantastici Su quel Rapporto Complicato Della famiglia silente Che sembra Dover rimettersi Tutto in discussione Nei romanzi da capo O l'hai risolto O non l'hai risolto E se l'hai risolto Non è possibile Che non ne parli Per sette romanzi Di questo rapporto Il problema È che in realtà Non l'ha risolto Quindi se a te È arrivata L'informazione Che in questo film È risolto Ma in animali fantastici È sbagliato Però è quello Che sto dicendo Cioè sto dicendo Che mi hanno creato Un silente Cioè no che ha sbagliato te Sì 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 Ma io l'ho capito Quello che volevano dirmi Ma il problema È che In quel character design Quel silente L'ha risolto È palese Che l'ha risolto Si salutano Con lo sguardo Come dire Visto Messo tutto a posto Grazie fratello Bella storia Nipote Cioè È risolta Quella cosa Io questa impressione Non l'ho avuta Ma perché 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 Conosco Conosco il personaggio E quindi Questa Questa impressione Non l'ho avuta Sì ma Se io ci incontriamo A Play E siccome Play è sempre in ritardo A mandare i biglietti Content creator Di valori italiani E ti devo dare io Il biglietto Content creator Di valori italiana E quando entri Mi fai E fai vedere il biglietto Io ti faccio È tutto a posto Certo Sì 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 Sessant'anni dopo Povera Giulia Il biglietto Avrei potuto darglielo prima C'è un errore Poi Se vogliamo Ci mettiamo lì Facciamo i disegnini Con le linee temporali C'ho la lavagnetta Però c'è un errore Sì 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 Ripeto Ripeto Io dall'altra parte Quest'impressione Non l'ho avuta Però se tu hai avuto Questa impressione Me lo segno Perché è una roba Che riporterò Riporterò Anche Ma sì Ma sì Ma sì Sembra che Grazie a quello Che è successo La cazzata Che abbiamo fatto Con mio nipote E mio fratello Almeno questa In nome di Ariana L'abbiamo fixata Passa tanto Cioè dagli sguardi Dal modo in cui Gli attori si guardano Cioè io L'ho sentita Poi magari sono l'unico Nel mondo Allora Faccio mia colpa Però Mi chiedono Cosa mangio Cosa mangiavo Ho svuotato Come vedete Testimonianza Un chilo di ravioli Al tartufo C'è un puzzo Di metano In questa stanza Non ci si sta Io ancora Non ho finito La mia piadina Invece Eh vabbè Leggo un po' Di commenti Finisci di mangiare L'alimentazione Alla tua età È importante Yuri e basta Non è il quarto In cui c'è l'attrito Tra Harry e Ron In cui Ron Ha la love story Con quella tizia Insopportabile Stai unendo due cose Sì Sì Sono due Sono due momenti Diverse Il momento No però Nel film Nel quarto C'è il momento Gelosia Hai ragione C'è il momento Gelosia C'è la litigata Tra Harry e Ron Ma Ron Non ha la storia Con la Wanda Brown Ron La storia Con la Wanda Brown Ce l'ha nel sesto Vero Però Secondo me Parlavano del film Per quello Dicevano È molto love story Il quarto Quarto film Un quarto romanzo Ma la risoluzione Dell'amicizia Che nel libro È una roba spettacolare Con Hermione Che si siede sul divano E dice Uomini Uomini poi Bischi Che non esiste Nel quarto C'è il testosterone Tra adolescenti Guarda caso Bischi scrive Tutte le cose Che sono esattamente L'ossimoro Di quello Che hai detto In quel momento Coincidenze Lo fa apposta Lo fa apposta Tin drama Dice Yuri E basta Dance floor Il labirinto Della terza prova Nel film È una passeggiata Nei boschi Fra l'altro Il labirinto Me lo immaginavo Assolutamente terrificante E pieno di cose Terribili Perché così Te lo racconta Da Rowling Tanto tempo Di Harry Potter Direi di avere Abbastanza informazioni Per capire Il pensiero di Giulia Mi permetta A questo punto Di sintetizzare Il suo pensiero I film sono Mille volte meglio Dei libri Ho capito bene Gaia B Che onore Perché l'abbiamo Ringraziata due volte Fra l'altro Non so se ho ringraziato Gaia B Oggi Ma Gaia B Grazie per essere Iscritta Con Prime Per undici mesi Grazie mille Il segreto Pulcinella Ha detto Dance floor Raffreddando subito Lo spirito Di Nick I film di Muccino Non li ho visti Devo ancora recuperarli Fallo Perché specialmente La ricerca della felicità È secondo me Un grandissimo film 7, 18, 9 anime Non mi ricordo Quante anime erano Un pochino meno Perché La sospensione L'incredibilità È un po' Esageratina lì Però Comunque L'interpretazione Di tutti i personaggi In quei film Sono veramente Da brivido Mi sono piaciuti Veramente Molto 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 La ricerca della felicità Bellissimo La ricerca della felicità Molti pensano Che sia esagerata Ma io Ho studiato La biografia Del personaggio Molto priva Dell'uscita del film Del personaggio Del Del protagonista Quello che è rappresentato A Will Smith E ha fatto Quella vita lì davvero Cioè ci sono Testimonianze Della Della sua storia Quindi È molto meno surreale Quanto si pensa E l'America Funziona esattamente L'American Dream Funziona esattamente così Che non è un complimento Yuri e basta Sarei curioso di capire Se c'è un reale motivo Per cui i maghi Negli anni 30 Si vestivano in maniera Molto più normale Rispetto al presente Potteriano Anche questa Questo è un enorme trigger Per me Anche questa Effettivamente Ne abbiamo parlato a lungo Cioè perché Che non lo riusciamo a capire Non lo riusciamo a capire Proprio perché Siano Veramente Trasposti Come Cioè Come impiegati Della banca Sì No più che altro Io la giustificazione Che mi sono dato Per darmela Non perché abbiano ragione Loro È che Prima dei fatti Di Voldemort La fusione Maghi 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 No Che Maghi No Lo so È un'altra roba Però per capirci Col pubblico Era Molto più elevata Nel senso C'era più incorporazione Fra due mondi Proprio per una ragione Di segretezza Di organizzazione Degli equilibri Dei rapporti Quindi erano un po' più Mescolati Era tutto un po' più Meno appariscente Meno separato Meno netto Dopo i fatti di Voldemort Un po' di paura Un po' di Stiamo nei luoghi sicuri Stiamo fra di noi Una sorta di Pandemia Fine pandemia Nel senso Di chi ci possiamo fidare Non socializziamo troppo Non stiamo troppo In contesti Dove potremmo essere equivocati Me la sono data io Mi rendo conto Che non traspare Però Segna Giulia Non lo so Perché Cioè La spiegazione Che ci davamo noi È che appunto In quel momento Storico I maghi Appunto In America Ancora le leggi Erano molto Potenti Come ci racconta Animali Fantastici 1 I maghi Non si potevano sposare Con i babbani Non potevano avere Relazioni con i babbani Eccetera eccetera Quindi probabilmente Era più importante Non essere riconoscibili Perché c'erano queste leggi Molto Molto forti E di conseguenza Si vestivano In maniera Meno appariscente Questa è un po' La spiegazione Che ci siamo dati noi Che però regge Fino a un certo punto Sinceramente Cioè per me Non regge Veramente tantissimo Quindi Non so Ma ti fa stravolare Questa cosa Che i fan club Si diano le giustificazioni Ma gli sceneggitori Non ci abbiano Mimamente pensato Secondo me Cioè No avranno fatto questa cosa Perché l'ho scelto E così C'è un lavoro enorme C'è un lavoro enorme Da parte Dei reparti Dei reparti Che vengono Meno Come si dice No adorati Che vengono meno Chiacchierati Chiacchierati Esatto C'è un lavoro enorme Cioè per esempio C'è Citavo prima Mina Lima Lo studio di Mina Lima Che loro si sono occupati Di tutta la cosa Cioè se voi vedete La mappa del malandrino L'hanno creata loro Se tutte le cose grafiche La lettera L'hanno creata loro Le cose grafiche Le rappresentazioni grafiche Le hanno create tutto loro Tant'è che Appunto Grazie ad aver lavorato Con Harry Potter Loro Oggi hanno un negozio Tutto loro E fanno un lavoro Incredibile Il problema È che fanno Un lavoro Incredibile Che poi A livello Cinematografico Vedi fino a un certo punto Perché noi Durante la lavorazione Di questo film Abbiamo visto Il biglietto Del treno Su cui è ambientata Una scena Di questo film Treno di cui Nel film Non si sa assolutamente Niente Da dove arriva Dove va Noi grazie al lavoro Di Mina Lima Sappiamo che parte Da Kings Cross Dal binario Tre e un terzo È una roba Fighissima Da sapere E c'è anche Il biglietto Perché ti riportano A Kings Cross Da dove parte Lo Hogwarts Express Tutta una serie di cose C'è il biglietto Ci sono le cose Se tu vai a vedere Il lavoro Che ha fatto Mina Lima Per questo film È enorme Cioè ci sono Delle robe Fighissime Che poi Non si vedono E rosichi Ti fa proprio Rosicare Sta roba E secondo me Anche Negli altri reparti Succede Succede Questa cosa qua Quindi sì Noi ci diamo Le giustificazioni Che lo sceneggiatore Non ci dà Ma che probabilmente Altri reparti Che hanno lavorato Al film Hanno dato E questo mi fa Ancora più incazzare Non ho messo bip Sono solo l'unico Titolato a dire Incazzare Alla big macchia Che chatta con noi Per la prima volta Benvenuto big macchia L'errore più grande È Trasportare un libro In film uno a uno Sono due mezzi Comunicazione differente Hanno bisogno Di un diverso approccio I film che riescono a farlo Possono essere Migliori del libro Ci metti le virgolette O comunque darti Qualcosa di differente Tanti cuori in chat Per te Perché sono molto d'accordo Sì 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 Assolutamente Dancefloor Sarò sfigato io Ad aver letto libri Trasposti male No è che è molto probabile Diciamo quindi Sei nel calcolo Delle probabilità Trigger cam Per gli organizzatori Play in fase di montaggio Madonna Non se ne può più Non se ne può più Allora Non se ne può più Michele Non se ne può più Di sempre le stesse cose Tipo disco rotto Yuri e basta Magari era un periodo In cui volevano inserirsi Più nella società umana Che è quello che dicevamo Con Giulia Appunto Poi Nick di Italian Greek Piccola riflessione È praticamente impossibile Trovare una trasposizione Cinematografica Che sia dello stesso livello E l'opera manoscritta Ma a mio avviso Almeno un caso C'è Death Note L'anime Opera veramente Dello stesso livello Del fumetto Il live action Ovviamente fa sanguinare Orecchie e occhi Poi Dancefloor Non so com'è La definizione originale Ma no mag È orribile Però qui Giulia Lì era L'ambiente americano Quindi in realtà Non abbiamo Sì sì In America È no mag No mage Capito un po' Io Capito un po' Da Brooklyn Mentre in inglese È Muggles E babbano In italiano Yuri Deve scappare Ciao Yuri Ciao Yuri Il nome della rosa Di Umberto Ecco Molto vero Molto vero Dai Cosa c'è Col nome della rosa Di Umberto Ecco Non l'ho visto Ah è Le dondolavi Con la faccia Non è vero Non l'ho visto Quindi non parlo Ok È molto bello Leggilo O guardalo Perché è un po' Amvecchiato Ovviamente Però Un bellissimo giallo Un bellissimo giallo Thriller Boh Non so come definirlo Thriller Gotico Medieval Cattolico Ok E se vi è piaciuto Il nome della rosa Umberto Ecco Non c'entra assolutamente nulla Ma tratta il tema La religione In un modo assolutamente Inquietante Guardatemi La serie Midnight Mass La messa di mezzanotte Che è Teribile Come serie tv Teribile Con una R sola Senti Amica di Giula Amica di Noartri Si è fatta una certa Però Non abbiamo parlato Di una cosa Importantissima Tipo Dice Beh nulla è data al caso Ho lavorato al primo Fantastic Beast Ci sono diversi dettagli Che vengono fatti e pensati Ma poi nel film Giustamente non vengono spiegati Ma ci sono Wow Big Macchia Big Macchia Vedo già i cuori Negli occhi di Giulia Che sta prendendo il tuo contatto Per stalkerarti Esatto E passaci a trovare Anche su Portus Tra l'altro Posso dire questa cosa Abbiamo in parte Cioè Nella nostra redazione Un ragazzo Che ha fatto la comparsa In Animali Fantastici E3 E si vede benissimo A un certo punto Cioè in una scena Si vede proprio In primo piano Quindi scrivici Bella Big Bella Big Macchia Ma che facevi Ce lo puoi dire? Infatti Diccelo Sono curiosissima Scriviccelo Mentre ti lanciamo Cuori dagli occhi di Giulia Praticamente Esatto Parliamo di Hogwarts Legacy Eh Allora Hogwarts Legacy L'hype a mille Cioè io penso che non uscirò mai più Da quel gioco Lasciatemi Sei sicura di questo? Sai che c'è già un po' Di Chit chatting Su sta roba Vero? Lo spero Spero vivamente Che sia Però per assurdo Quello che si ipotizza Potrebbe essere Quello che fa per te Cioè un walking simulator Eh sì Nel mondo di Harry Potter Sì 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 Cioè nel senso Il trailer È stato molto accattivante E fin qui Ormai Eh sì esatto Cioè da dire Cinematic Che tra i trailer Ci hanno Cioè ormai hanno imparato Come Come Acchiappare L'hype Eh Di tutti Spero Che sia veramente Quello che promette Però Ho tanto hype Per quel gioco Anche perché Ci stanno lavorando tanto Uno spero che Arrivi Allora Spiegate cosa sia Questo Legacy Per gli ignoranti È il videogioco Uno dei tanti Videogiochi Già usciti Ma che deve uscire Credo Rumors Dicono Entro il 2022 Più probabile Visti gli andamenti 2023 In realtà Hanno detto Novembre Non succederà Giulia Lo dicono Per i The One Ormai Il mondo Dell'industria videoludica È peggio di quello Il gioco da tavolo Sì sì Le voci più attendibili Ipotizzano Primo trimestre 2023 Però magari ce la fa E siamo tutti contenti E intanto Big Macchia Faccio gli effetti speciali Tra le cose Ho fatto il Thunderbird Principalmente Il Falcotonante Figata Come l'ho ribattezzato Figata Figata Ho un parente Che fa il tuo stesso mestiere Ha lavorato In Guardia della Galassia Però Non Così Nota di colore Magari vi conoscete E Quindi È un videogioco Dove non si è capito nulla Perché è un bellissimo cinematic Sembrerebbe Un mix Fra un simulator Con componenti Action GDR Ambientato Un boto di roba Ambientato Prima dei fatti Di Di tutti i fatti Nell'ottocento Quindi molto prima di Grindelwald E Però In una Hogwarts Che è Hogwarts E Con la possibilità Di costruirsi Il proprio personaggio Essere abbinati a una casa Fare lezioni Quindi tanta simulazione Anche di Probabilmente Di parte di crafting Passatemi il termine Quindi Imparare Skill Che permettono Di fare pozioni Scoprire nuove incantesime Blah 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 Una parte Di esplorazione Dove probabilmente Avremo quest O comunque Missioni Robe Particolari Fa vedere Fa vedere anche Che costruisce La casetta A un certo punto Lugno Quindi c'è anche Un elemento di build E E poi Abbiamo visto Che ci saranno Le stagioni E poi c'era Questo combattimento Che non si capisce Un granché Perché Sul combattimento È quello che Lascia un po' Più di dubbi Al momento Perché Quello che ci hanno Fatto vedere È tutto molto uguale Rispetto ai combattimenti Sì È sicuramente Interessante La storia Che è ambientato Insomma Quando C'è La C'è Chiamiamola guerra Ma in realtà Non è proprio una guerra È una rivoluzione Goblin maghi E Quindi Che è citata Anche all'interno Di Harry Potter Quindi Molto interessante La cosa interessante È anche Che Il personaggio Che guideremo noi All'interno del gioco Arriva A Hogwarts Al suo quinto anno Perché Si era persa La sua lettera E Questo dà speranza A tutti noi Cioè Nel senso E no Ormai no Giulia Ormai no Arriva la sua lettera Arriva la sua lettera Entra direttamente Al quinto anno A Hogwarts E Se non sbaglio È ambientato Nel 1890 E Facevamo i conti L'altra sera Con Bischi proprio E Perché Che nel 92 Dovrebbe arrivare Silent A Hogwarts Quindi Se il gioco Se la storia Va avanti Di due anni Potremmo vedere Lo smistamento Di Ma sai che Quelle cose lì Sono difficili Perché c'è anche Il personal brand Dell'attore Devono pagare diritti Poi per i singoli Per i singoli personal brand Magari possono farlo Illustrato In maniera Diversa È giovine Molto giovine A 11 anni Chissà Chissà Vedremo Un giovane Jude Law Che non è Jude Law Così Finiamo Il mistazione Big Macchia Poi smetto Anch'io Quindi Magari ci si conosce È probabile Non lo so Eravate tanti studi Lo so So che lui Ha curato Per quanto riguarda Guardia nella galassia Tipo Gli stivali Che sollevano Il protagonista Cosa del genere Faceva Lui faceva però Match moving Potrei dire una cavolata Quello che si abbina L'effetto speciale Al movimento Dell'attore Una cosa del genere Ci capisco poco Ma magari mi corregge Se sbaglio Nick chiede Ma una sorta di open world Alla oblivion O più scriptato E limitato Difficile da dirsi Sicuramente sarà open Sicuramente sarà open Lo stile di gioco Sì Non sappiamo Quanto open Non sappiamo Quanto open Non sappiamo Quanto roleplay Alla oblivion Probabilmente no Cioè nel senso Sarà un po' più Sui binari Da quel punto di vista Ci dicono Dal trailer Puramente cinematico Quindi non riusciamo A capire effettivamente Poi quali sia Questa libertà Che tu Vada liberamente Alle lezioni Faccia cose Vai nelle case Nei dormitori Quindi un minimo Di libertà Di movimento Si vede tanta outdoor Ci sono tanti Combattimenti outdoor Quindi probabilmente Ci sarà Parecchia libertà Di movimento Anche perché ormai Tutti i prodotti On brand Cercano di dargli Componente open world Perché poi si abbina Bene a DLC O a microtransazioni Molto più di open map O giochi su binari Puri Quindi Sento troppa puzza Di fanservice Per questo legacy Dice Dancefloor Io In realtà No Cioè ho sentito Più puzza di fanservice Con Con Il torneo Delle case Che hanno fatto Prima di Natale Su HBO Max Lì Oppure con una citazione Proprio in questo film Fanservice Fatto malissimo A mio parere Che non dirò Per non spoilerare Ora mi hai lasciato Un po' di curiosità Ma mi sa Che ho capito È per questo motivo Che poi Harry Potter L'hanno mandato 72 miliardi Di lettere Per evitare L'interessi Errori Adietro Effettivamente Effettivamente L'abbè C'è quella scelta Stilistica A me Non mi è piaciuta Tanto Di fare iniziare Il quinto anno Perché per la prima volta Che mi fai Un potenziale Action GDR Non volevi fare tutto È un po' Un po' La crescita Del personaggio Ci stava No Tutta la crescita Del personaggio All'interno Del Far rosicato Anche perché Poi non so Tutti i fondamenti Base Come le giustificheranno Perché comunque Nel Nei sette romanzi Abbiamo sempre Molto ben chiaro L'evoluzione No Nel L'evoluzione Dei Anche dell'apprendimento Cosa sanno fare Al primo anno E cosa sanno fare All'ultimo Quindi questa arriva Poveraccio Non sa niente E questo poveraccio Poi siamo noi Che deve recuperare tutto Insomma Alla faccia del cepu Lo potremmo chiamare Cepu Hogwarts Tania precisa Precisa Sempre Molto precisa Tania Lezioni sono obbligatorie Nel tempo libero Puoi girare dove vuoi Sì Sei Sei super puntuale Che porcata enorme Quel programma Dice Dancefloor Bischi89 Bischi89 Che guardate caso Ha scritto Mentre Giulia Stava in silenzio Coincidenze Visti quanti dettagli Riferimenti e riferimenti Certificare Non come amico immaginario Non come amico immaginario E dove trovarlo Di Giulia Molto bene Giulia Giulietta Abbiamo fatto una certa Dovevamo stare un quarto d'ora fa Chiusi a fare altre cose Invece non ci siamo riusciti Ti ho tregrata il giusto Insomma Tiriamo Tiriamo Facciamo quelle cose brutte Brutte proprio da Così Quindi che giudizio diamo Alla fine a questa trilogia Per ora Sintetico Per ora Da 1 a 10 Tutta la trilogia Per ora 7 Mamma Non riesco a dargli di meno Cuore di fan Allora io Gli do Un 6 Più più Dove i più più Li prende solo per il primo film E poi No Mario Bischi arriverà a presentarsi a Play Ma Giulia sarà strenamente in bagno Ma anche secondo me Col filtro baffi Mi presento quello che uso È un po' come Il meme Mi hai mai visto Nella stessa stanza con Batman No Infatti Il ragazzo è intelligente Ma non si impegna Dice detto Ma perché non esiste Quindi Si riferisce al film Ah ok Che hai dato 6 più più Il ragazzo è intelligente Pensavo si riferisce a Bischi Che non trova No Lui si impegna molto Si impegna molto a essere nella tua testa E a uscirne Con Con Fredda pazienza Il ragazzo è intelligente ma non si impegna Sì secondo me sì Perché era un po' La trilogia che ci meritavamo Ma non quella di cui avevamo bisogno Così c'è da dire E qui chiudo Chiudo proprio in trigger Totale Mic drop Esattamente Che la Warner Bros Ha in mano Il più grande Fandom Il più Una delle più grandi Opere Dei nostri tempi E non è In grado Di Farlo Vivere E di guadagnarci Proprio anche dal punto di vista Materiale Come potrebbe Ma Anche in termini di Multi cross media Perché alla fine Una bella serie Su Netflix Amazon Prime Dove vi pare Un video di gioco Fatto veramente bene Lo targettizzano Per i bambini Non capendo che il target Non sono i bambini Sono i trentenni E non lo riescono a capire È un macello Un macello Così capisci Quando ci dite Boomer Come ci si sente Come ci si sente Maledetti Allora Io Chi raidiamo Giulia Non c'è nessuno Che parla di Harry Potter C'è Codomina C'è Player Inside C'è Curo Lili Ma Curo Lili Non ci saluta mai Ci saluta sempre a metà Ci dice Ciao Dungeon C'è Zio Gabrio C'è Zio Gabrio? Sì Potremmo andare Ma sta giocando a Final Fantasy Mi sa che non ha ancora iniziato Andiamo da Midna Dai Da Player Inside Non l'abbiamo mai raidati Loro mi sa Player Inside Sì l'abbiamo raidati Io non l'ho mai raidati Sai c'è scritto A pranzo con Mario Qua Stai molto calmo Hai ragione A pranzo con Giulia Stai tranquillo In me è quello Della tizia col gatto E fai il gatto Bene ragazzi Grazie di essere stati con noi A questo pranzo con me Oggi mi avete fatto mangiare bene Il raviolo era buono A parte l'odore di gas Che si è sviluppato nella stanza Non espulso da me Malpensanti Ma dal raviolo Al tartufo Bianco E quindi vi ringrazio Vi ricordo I prossimi appuntamenti Che sono gli stessi Così ve li ricordo Vi aspetto io Stasera Alle 21 Non mancate Perché ho preparato Un super quiz A tema potteriano E ci sarà anche Un vincitore Il vincitore Vincerà Il titolo di VIP Del gioco Andatevi a spaccare Con Giulia Stasera Invece per tutti Gli altri appuntamenti Non ho più voglia Di ricordarveli Posso permettermelo Quindi qui sotto Su Twitch Ci sono tutti Gli appuntamenti Fate Swipe up Col vostro ditino With your little fingers E vi andate a vedere I prossimi appuntamenti Io vi saluto Raidiamo da Midna Salutate Salutate Emici Midna E ditegli che noi giochiamo Da tavolo E lei no Cattiva Ciao 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 a tutti Ciao Giulia Ciao Ciao Ciao